Sono contentissima perché appunto siamo riuscite a giocare bene, a divertirci, a imporre il nostro gioco e mi hanno fatto un regalo bellissimo perché le vittorie sono sempre belle e quindi sono contentissima. Una serie ancora lunga ma siete riuscite a tenere Napoli a soli 49 punti il secondo attacco del campionato? Sì, la serie ancora lunga però noi penso che per tutto l'anno ci siamo preparati per questo momento e quindi dobbiamo per forza giocare al meglio.